Musica Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritrovati con noi. Vi presento subito il nostro gradito ospite. È ben piacere di avere qui con noi Paolo Galeano, sindaco di Preganziolo in provincia di Treviso, coordinatore regionale di Avviso Pubblico. Ben ritrovato, coordinatore, sindaco. Buongiorno a tutti. Allora, con il nostro ospite daremo una serie di informazioni e anche di alert di quelli che possono essere dei sintomi della penetrazione dell'attività delle mafie nel nostro territorio. Ormai si è chiarito, se ne è parlato anche più voce, da parte anche delle istituzioni, le mafie purtroppo da anni sono entrate, si sono insinuate, si sono incardinate, stanno operando, stanno facendo anche soldi perché dove trovano dei filoni particolarmente prosperosi, lì si radicano in modo importante, però il problema, questi sono stati studi anche condotti con la collaborazione di Avviso Pubblico e l'Università degli Studi di Padova, studi appunto attestano che dove si insinua la mafia, purtroppo l'economia onesta, l'economia fatta delle imprese del territorio che lavorano e operano nella legalità, si atrofizza e si riduce, questo a danno è a discapito di tutti e quindi si impoverisce il territorio, sindaco assolutamente. Voi vi occupate di segnalazioni, di prevenzione, di alert, lei è un amministratore pubblico, quindi ha un ruolo molto importante perché riesce ad avere in mano dei tanti asset in qualche modo del territorio, che cosa dovrebbe cogliere un sindaco, può cogliere un sindaco, secondo la sua esperienza? Buongiorno a tutti di nuovo, allora io penso che sono questi temi da affrontare sempre meno in maniera amatoriale e sempre più in maniera professionale possibile. Che serve perché non è più una cosa così tanto per dire, che ancora molti credono che sia un pur parler. Sì che sia un pur parler, invece sappiamo come dalle dichiarazioni le istituzioni più titolate sul territorio e anche fuori regione, così come chi studia questi fenomeni a livello universitario o altri professionisti e dottori e professori che si cimentano sul tema, hanno confermato come se stiamo nell'ambito veneto, non si parli più di radicamento, non si parli più di infiltrazioni, ma di vero e proprio radicamento. Erano forti e chiare anche in questi giorni le parole del nuovo prefetto di Padova che confermava appunto di come si potesse parlare di presenza sul territorio del fenomeno mafioso e non più semplicemente di infiltrazioni. Proprio questo ci porta a dover affrontare, come dicevamo prima, il tema da un punto di vista maggiormente professionale, come dicevo in maniera minore dal punto di vista amatoriale, quindi con un approccio sempre più preparato e tecnico alla materia, per poter preparare e costruire quelle antenne e quei ricettori necessari a cogliere gli elementi che su un territorio possono appunto far alzare le antenne in funzione o che possono rilevare la presenza di fenomeni mafiosi o comunque di più in generale di fenomeni di criminalità organizzata, che come diceva lei in maniera importante atrofizzano letteralmente l'economia di un territorio. Quindi non è che la convenienza economica che trova un soggetto, soprattutto iniziale, che trova un soggetto in appoggio alla criminalità organizzata, anche quella di stampo mafioso, sia un fenomeno da cui il contesto rimane avulso. No, è un fenomeno, è un elemento che poi mette radici su tutto il territorio, creando povertà, creando atrofizzazione della sua vita economica. Ecco perché tra l'altro, qua siamo appunto nel nord-est, però ci sono state anche, tra l'altro notizie di quest'anno, nella zona dell'Appennino romagnolo, dei comuni molto piccoli, dove peraltro in certe realtà di carattere economico c'era la presenza della mafia. Quando per lo più si sosteneva che in comuni insignificanti, in realtà marginali, più poveri, eccetera, non ci fosse neanche il pericolo che questa si incardinasse. Questo per dire che anche i comuni che possono sembrare così tranquilli, e abbiamo visto degli esempi anche in Veneto, ma non volevo fare esempi sul territorio, perché dopo altrimenti sembra che sia da colpire sempre lì, possono essere a rischio. Per quello dico il ruolo forse del sindaco, e di un sindaco non di una grande città come può essere, dove magari c'è per carità assolutamente, ma ci sono anche altri strumenti a disposizione, ma dei comuni magari cosiddetti impropriamente minori, possono esserci delle presenze importanti, e magari possono essere anche dei luoghi ritenuti più tranquilli per poter operare, no? Sì, proprio la conoscenza di come le mafie al giorno d'oggi e in questi contesti geografici si muovono diventa fondamentale per cercare di capire quelli che possono essere dei movimenti che altrimenti sembrano totalmente fuori dai riflettori. Alcune indagini hanno provato, alcune ricerche hanno provato la presenza della mafia in comuni e in territori in cui ci si poteva perfettamente non aspettare la stessa. Invece il muoversi di queste persone, il muoversi di questa rete criminale cerca davvero di sfuggire perché è sempre più normalizzata all'interno dei contesti, non cerca lo scontro, bensì cerca il consenso dei contesti in cui va a radicarsi e quindi non crea scalpore, non crea agitazione, ma di solito cerca di avvicinarsi in maniera morbida, sostanzialmente andando incontro a quelli che sono i bisogni delle persone, soprattutto delle attività economiche, che possono essere più in difficoltà o più alla ricerca di quelle risposte, che appunto inizialmente sembrano dare ossigeno alla realtà economica che vi si appoggia, ma poi si rivela in un vero e proprio capio al collo. Come amministratori che cosa fare? Noi diciamo come avviso pubblico, è un'associazione che conta oltre 500 enti a livello italiano, a livello nazionale e più di 110 enti locali, compresa la regione poi Veneto, alcune province e altri enti pubblici in Veneto appunto, superiamo la soglia di 110, partiamo dalla consapevolezza che la mafia e la criminalità organizzata fa della rete la sua forza, noi quindi non possiamo pensare di contrastare singolarmente con le forze di ciascuno quella che è un fenomeno che appunto si basa sulle relazioni, o anche noi ci mettiamo in rete e costruiamo insieme delle azioni per costruire la legalità sociale e istituzionale ai nostri territori, altrimenti davvero andiamo poco lontano. Ecco, un amministratore comunale deve appunto stare molto attento e ci sono degli indici particolari, dei segnali, degli allarmi che a volte si trascurano, lei appunto, tra l'altro facendo il coordinatore, non con una formazione, perché voi fate continuamente corsi di formazione aperti al pubblico, alle scuole, poi ne parleremo, ma anche agli addetti, a voi che operate all'interno. Cosa può essere un allarme particolare? Perché tante volte si parla di questo tema, e noi spesso riceviamo delle mail da parte anche di imprenditori che dicono, facile a dirsi, ma non sempre quando sei preso dalla tua attività riesci a cogliere se il tuo interlocutore, eccetera, dovrebbe essere anche le amministrazioni, insomma le istituzioni che danno una mano, ma come? Certo, allora diciamo che ogni soggetto di questa rete deve fare davvero fino in fondo la sua parte, anzitutto con una precisa scelta di campo, nel senso che nessuno di noi può pensare di inseguire la sola convenienza della posizione che ricopre in quel momento, nell'imprenditore, nel politico, nessuno di questi soggetti, e bisogna avere la consapevolezza sociale delle scelte che facciamo e della loro ricaduta. Le attenzioni a cui bisogna avere nei corsi di formazione che vengono fatti dagli specialisti, ci sono tutta una serie di sintomi che possono far rilevare degli spostamenti sospetti o degli affari sospetti all'interno dei nostri territori, e corrispondono fra virgolette anche semplicemente ad alcune situazioni manifeste di illegalità. Le segnalazioni per le operazioni sospette, per esempio, che possono essere fatte dai professionisti piuttosto che da altri enti, segnalano quelle operazioni dove ci sono spostamenti di denaro o immobili incongruenti rispetto al patrimonio che è dichiarato dall'operatore. Quindi la segnalazione delle operazioni sospette è uno proprio dei canali attraverso cui potersi attivare per rilevare le situazioni di questa incongruenza di spostamento fra i vari valori nel territorio, i redditi che sono a monte dichiarati, oppure il cambio dei referenti o dei dirigenti di alcune aziende che si creano e si muovono molto velocemente e cambiano appunto le teste dirigenti di quella realtà, di quella persona giuridica. Quindi cambi all'interno della compagine aziendale e sociale dell'azienda? Attenzione, collegare poi questi dati con le residenze e quindi tutte le verifiche che la polizia locale, le anagrafi demografici possono fare sul territorio. Insomma, un occhio vigile che porta ad incrociare tutta una serie di elementi che possono cercare di far quadrato e di stringere un po' la rete verso la situazione sospetta. Poi ovviamente appoggiarsi alle forze dell'ordine che per mestiere con enorme competenza si muovono su questo terreno diventa fondamentale, nel senso come dicevo prima il nostro apporto diventa quello soprattutto della formazione di una cultura, di un'attenzione sociale e istituzionale che dopo deve necessariamente appoggiarsi nella fase, diciamo così, problematica agli operatori delle forze dell'ordine, agli esperti per intervenire poi con la fase repressiva. È necessario che comunque ci sia una connotazione mafiosa, tra virgolette, che ha determinati requisiti, che non sempre è rinvenibile nel nostro territorio con le stesse modalità con cui è stata conosciuta oppure si manifesta da altre parti anche se poi può arrivare tranquillamente anche atti di violenza estremi perché ci sono, dopo parleremo anche delle minacce non solo amministratori pubblici ma anche imprenditori, minacce anche serie, aziende che sono state, si distrutte e quant'altro. Quindi come fare? Perché sei in una situazione quasi di limbo, no? Infatti lo stiamo vedendo soprattutto in queste settimane dove l'esito di alcuni processi porta a rilevare come ci sia di fatto criminalità organizzata ma non sempre di stampo mafioso nel senso che alcuni elementi non vengono poi rinvenuti da chi esegue le indagini e dal soggetto giudicante. Anche se all'inizio magari sembrava che ci fossero. Esattamente, diciamo che la criminalità organizzata non sempre è di stampo mafioso e lo stampo mafioso è rinvenibile nelle modalità con cui quella rete criminale si agisce sui territori quindi l'omertà, l'oppressione, quell'aria soffocante e quel clima che viene creato nelle persone che non si sentono più libere di parlare, muoversi e agire come se appunto questo clima e questo cappio non ci fosse. Quindi davvero il clima creato dal contesto, dalle modalità mafiose appunto con cui agiscono la criminalità organizzata di stampo mafioso è differente però spesso i fenomeni sono collegati nel senso che le mafie trovano terreno assolutamente fertile in tutti quei fenomeni di legalità anche più banali che ci possono essere sul territorio. Quindi non è che se un reato viene derubricato a semplice associazione criminale si possano abbassare le antenne. Sappiamo proprio come invece il collegamento con la realtà mafiosa possa essere importante e comunque i risvolti negativi sul territorio arrivano ugualmente in maniera molto pesante. Assolutamente sì, lei ha parlato di omertà. C'è omertà nel nostro territorio? Ne hanno parlato anche i sindacati quando è stato coinvolto una realtà di un comune del Veneto dove riscontravano questa situazione. Ma c'è secondo lei? A me ha fatto sempre specie leggere alcuni verbali, alcuni estratti delle indagini che sono stati fatti in questi anni dove alcuni dei mafiosi che sono stati intervistati, alcuni dei pentiti insomma coloro che poi hanno confessato hanno messo nero su bianco a chiare lettere di come abbiano ritenuto di provare a fare affari mafiosi in questo territorio perché hanno trovato un contesto non sempre così candido, lindo e onesto come invece spesso si racconta. Ecco, noi dobbiamo stare attenti a far sì che non si faccia di tutte le erbe un fascio perché non dobbiamo ovviamente far passare un'immagine più critica di quella che c'è. Certo quindi non negando il fenomeno ma avendo la giusta attenzione, la giusta consapevolezza che le persone che invece agiscono per la pura convenienza personale senza fare quella scelta di campo che invece ci fa agire con la piena consapevolezza delle ricadute sociali delle nostre azioni ci sono. Ci sono, ripeto, le indagini portate avanti in questi anni che sono anche concluse di recente testimoniano comunque della presenza del fenomeno mafioso e quando c'è la mafia vuol dire che le persone soggiacciono in alcuni casi volendolo, quindi consenzienti in altri invece in maniera oppressiva a quel sistema che abbiamo visto è presente e radicato anche nel nostro territorio e quindi sì, non possiamo nasconderci nel fatto che il fenomeno mafioso e quindi anche le persone che agiscono o che subiscono quel fenomeno ci sono anche in Veneto e nelle nostre province. Assolutamente. Senaco, grazie. Andiamo in pubblicità rapidamente. Voi se avete da fare le osservazioni, volete mandare dei messaggi, approfittatene della presenza del coordinatore di viso pubblico qui con noi. Ci vediamo tra poco. Grazie.